Un progetto che nasce su una moto che già di per sé ha suscitato un interesse enorme sul mercato perché questa fase prototipale non è quella definitiva perché chiaramente se l'hanno fatti delle modifiche ergonomiche che avranno poi venduti al pubblico a quello che saranno interessati a trasformare la propria Desert X in qualcosa che sia un po' più con telaio di serie ma la moto da gara avrà un telaio posteriore che poi vediamo sul computer che è un monoscocca in alluminio. Con questa base abbiamo sviluppato insieme nel senso che noi abbiamo fatto le proposte, Paolo ci ha dato il suo parere, abbiamo sviluppato un'estetica che permette di avere capacità di benzina che serve per fare questo tipo di gare africane. I serbatoi saranno in alluminio, sia quelli del kit che quelli da gara, mentre il serbatoio posteriore sarà in rotazionale quello del kit e come ho detto in alluminio quello da gara. da lì è esploso tutto perché è stata tra virgolette un po' la regina della fiera di Milano nonostante ci fossero molti moto è stata strafotografata specialmente da giornalisti esteri è stata presa d'assalto. Diciamo che il vincente mi dice che è responsabile commerciale Ducati, mi sta dato che dopo le Ducati la nostra moto è la più grande. Dopo le Ducati, quello è ufficiale. Perciò abbiamo già... Ben riconosciuto la nostra soddisfazione, effettivamente ha colpito molto soprattutto la struttura di questo forcellore. Beh tutto nasce, in effetti questa moto non è che va male, io non vorrei toccare neanche questo telaio come ho già detto in precedenza perché a mio avviso quando si trova un buon assetto con un'office davanti per me è già buono, nasce per un fuoristrada, non è il solito telaio che viene adattato, rigirato. No, questo è un buon tema. C'è il problema del forcellone di escursione, come tutti sappiamo la fuoristrada è micidiale per queste moto che sono pesantissime. La prima cosa che abbiamo fatto è che abbiamo lavorato su questo forcellone. I progettisti di Alberto hanno studiato, fatto e finché non è uscito questo forcellone. Abbiamo allungato un po' il passo di quattro centimetri, dai 2 ai 4 centimetri, giocheremo su quella fascia lì. Questa moto nasce esclusivamente per le gare africane, per le alte velocità. Perciò è stato studiato per questo, stabilità, i pesi tutti concentrati in mezzo e bassi. Il lavoro più difficile lo stanno facendo i ragazzi di Alberto a Cat perché vogliamo mettere la benzina in mezzo, cioè più è in mezzo e come tutti sappiamo si centralizzano i pesi. Si centralizzano i pesi ed è incredibilmente molto favorevole. Tutto sta nel posteriore. L'anteriore noi stiamo utilizzando il pazzetto che abbiamo già utilizzato nelle nostre moto su Elvira che tu hai provato, su Frusta. Abbiamo già la qualità, la stabilità davanti, c'è poco da fare. Un punto di partenza fermo. Sì, fermo. Noi siamo partiti da lì e abbiamo sviluppato dietro. Adesso ci siamo, questa qui la tratta è stata, quando sarà finita, tutto quanto. Però il lavoro è stato fatto da mezza moto indietro. L'assetto ergonomico davanti è stato cambiato completamente, arretrato. Si arretreranno un po' le staffe, si abbasseranno di qualche millimetro. Abbiamo fatto un bel lavoro sulla parte delle pedane, quindi sono regolabili in avanti e indietro. E il reparto sospensioni? Lo sta curando Tiziano Monti di Imola, assieme a collaborazione con Andreano. Quindi Hollins. Noi useremo solo e esclusivamente Hollins per il momento, però per lo sviluppo di questa moto ci stanno prendendo la mano. Si è prodigato molto per trovare la geometria, ma più che altro il mono ammortizzatore che resiste e abbia un'escursione adeguata. Adeguata perché deve avere un'escursione da una classica moto 450 da Induro. Certo. Noi abbiamo questa referenza qua. Le escursioni devono essere 300 davanti e 220. Diciamo, sono gli standard che sotto quelli non ci si può. Senti, parlando del cuore del mezzo, quindi si parla di un motore Ducati che è un motore che ormai è supercalodato e conosciutissimo. Sono grandi caratteristiche, forse più stradali che fuoristradistiche, anche se, diciamo, la storia ci dice, ci ricorda le mitiche moto di Orioli, le Cajiva, con questo motore e il motore di 900. Questa è ancora un'anima di quel motore. Ecco, infatti chiedevo, l'anima l'ha persa o un'anima che comunque mantiene quella... Un'anima... Guardate, questo motore qui mi ha dato delle soddisfazioni, ma anche... Mi ha attaccato. Mi ha anche messo l'imbarazzo in una gara che ho fatto con una moto di semi. Perché nel fuoristrada, con tutte le trazioni, i blocchi, non si guida. Se togli via tutto, non si guida. Ha una potenza esagerata, cioè veramente... Troppo esuberante. Sì, è veramente troppo. E cosa abbiamo fatto? L'anima della moto rimane quella, più o meno. Poi si lavorerà sulla frizione, su alcune cose. Ma si è lavorato tantissimo ad oggi, già collaudate, sulla centralina che... Paolo, direi che possiamo andarla a vedere dal vivo, quindi... Ah, ok. Bene, questa è una bella cosa. A noi ci piace molto anche parlare di tecnica, quindi se si può... E' una conclusiva, il capo dell'azienda ha deciso di farvi vedere una centralina nuova. Ragazzi, allora questo ve lo diciamo in anteprima con grande soddisfazione. La Discovery Endual farà vedere il cuore pulsante di Mina. E quindi ora ci spostiamo nel reparto. In questo momento siamo nella zona dei nostri laboratori motore. Sì. E adesso vedremo, come dicevamo prima, l'oggetto per cui stiamo cambiando un po' il carattere. Ok. Sentiamo la voce. Si, si sente un po'. Già si sente, già si sente. Sì. 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 Allora, come il dottor Strasari ci ha promesso, siamo venuti a vedere dove si testa e dove si fa battere il cuore. Dove si cambia il carattere della Desert X. Quindi siamo sul banco prova, giusto? Sì. Dove ci chiamano venuti. Banco prova dinamico. Ecco, il banco dinamico. Dove si può simulare il funzionamento della moto su strada, diciamo. Perfetto. E qui, in bella vista, abbiamo quello che ci diceva prima, la centralina che è sviluppata interamente in casa. Passo la parola al nostro elettronico che è dei motori che si occupa dello sviluppo della centralina prima e poi dell'adattamento della centralina alle diverse moto. Prego Ivan. È una centralina completamente sviluppabile nel gelongine sia come hardware e sia come software. È un software dedicato alle applicazioni che stiamo sviluppando all'interno dell'azienda. Siamo passati sia da un monocilindro che al bicilindro. In particolare, in questa applicazione, stiamo cercando di realizzare una calibrazione dedicata per le gare che poi saranno fatte soprattutto nel deserto. Quindi una calibrazione dedicata per cercare di sfruttare al massimo le prestazioni di questo bicilindro fantastico, però a renderlo guidabile e quindi in tutte le condizioni possiamo sfruttare le sue prestazioni. Quindi stiamo sviluppando varie calibrazioni dove possiamo gestire sia potenza, coppia e potenza, che sia gestire anche il freno motore che nelle loro applicazioni sono molto importanti. Quindi possiamo, a seconda della calibrazione, modificare tutti questi parametri. Ah, anche il freno motore. Stiamo sviluppando anche delle posizioni... Cazzo, è una bella cosa. Un disceso. ...dove possiamo selezionare delle velocità particolari che a loro in particolare sono fondamentali quando devono attraversare dei paesi dove ci sono dei limiti specifici e impostando appunto queste calibrazioni loro non avranno più il problema di dover guardare il GPS o cose particolari, ma già la moto in automatico si setterà sulla velocità che devono affrontare senza nessun problema. Questo è un po' il quadro che stiamo cercando di sviluppare. Ivan, si può aggiungere che per le moto da correre sono stati tolti tutti i controlli elettronici perché questi vincono il feeling tra pilota e moto, quindi per questo, come diceva Ivan, c'è stato lavorato sul freno motore. Quindi una moto senza filtri, come dire. E sulle rivezioni. Quindi è complicato utilizzare un motore così esuberante senza nessun tipo di controllo, quindi diciamo... Nel traccio controllo, nel polso destro. Nel polso destro come dovrebbe essere. Esatto. Nel polso destro in più tutte le strategie che abbiamo implementato per cercare di rendere guidabile una moto che senza elettronica sarebbe molto difficile. Molto complicato soprattutto in percorsi dove, soprattutto nella sabbia dove serve la docilità del motore e non tanto l'esuberanza. Giusto no? Vero Paolo? Io penso. Un paese esperto. Un paese esperto. Esatto. Abbiamo aiutato di mantenere le prestazioni dove servono, quindi senza limitare la potenza perché dove si può usare ci deve essere, ma nello stesso tempo di limitare l'aggressività che ha questa moto. Che possa mettere in crisi. Esatto. Questo è un po' quello che stiamo cercando di fare. Quindi questo è un altro punto che dà l'idea di quanto lavoro e di quanto impegno, di quanto soprattutto conoscenza e specifica ci vuole per portare una moto standard a dei livelli elevati per poter essere utilizzata in competizione. Quindi questo è già una cosa molto bella, molto curiosa che per noi è stato veramente un piacere per averci mostrato questo gioiello. Dove invece blu il materiale è stato scavato, quindi quella frazione arancione che vedevamo prima è stata via via scavata per identificare queste due zone. La blu che è quella che non serve e che non contribuisce alla rigidezza e alla resistenza, la rossa è quella che ha un alto contributo in rigidezza e resistenza ed è poi quella che ci permette di andare ad identificare il disegno delle nerve. Quindi una volta ottenuto ciò, quello che viene fatto è andare a ridisegnare il forcello mental zero. Quindi il disegno che è stato ottenuto dal software viene poi riprogettato sostanzialmente a CAD e quello che viene fuori è qualcosa di questo genere. Quindi abbiamo praticamente un nuovo forcellone che non è più pieno o che comunque non presenta più delle nerve a X come ci era stato proposto, molto più scavato e presenta le nerve solo nei punti dove è necessario avere materiale sostanzialmente. E questa configurazione, come dicevo, è quella che permette poi di avere una rigidezza e una resistenza massima possibile con il minor peso, ovviamente. Il massimo dalle nostre possibilità. Il minore in questo caso è molto, molto esigente. Molto esigente. Sbilanciati. Noi tra un anno di collaudi dobbiamo arrivare a 172 con i liquidi. Con i liquidi. È un bel target. Eh sì, però io ho una grossa azienda. Certo, sì, indubbiamente. Questo sarebbe veramente un bellissimo arrivo perché questo permetterà ai piloti, adesso non solo io, chiunque avrà questa moto, prenderà questo kit, comprerà la nostra moto. Ecco, infatti. Comprerà la nostra moto perché poi nel progetto finale Strastari non si vuole sbilanciare, io mi sbilancio. Ecco, infatti la domanda, l'hai lanciato qui l'assist, quindi ecco, la nostra curiosità è questo kit, questa progettazione perché è fatta con un'azienda, come te, importantissima, un'eccellenza italiana, che veramente noi siamo rimasti anche stupiti e ci complimentiamo per quanto è bella e ben strutturata, però a cosa porta questo? Porterà sicuramente a una commercializzazione in che termini? E' ovvio che ci vorrà del tempo, le moto si vendono quando sono stracolaudate, loro lo sanno bene perché hanno questo lavoro. L'ideale, la mia, il mio ego mi dice facciamo la moto per eccellenza bicilindrica da correre tutte le gare al deserto. Vuoi una moto che funzioni bene? Compri questa moto, metti la ventina e parti. Pronto gara. Pronto gara, pronto gara, cioè punto e basta. Il sogno degli appassionati. Comunque il progetto, il prototipo è spendioso per un privato, crea un sacco di problemi nella gara, mentre qua se si fanno questi step giusti ci sarà una moto pronta, giri la chiave, i costi sono lievitati, però ci insegnano altre case, la factory costa sempre molto di più. E' un percorso un po' lungo, però ci stiamo lavorando. Comunque a breve. Noi contiamo a luglio di arrivare a provare. Andremo a provare al caldo. Andremo a provare al caldo. Al caldo a luglio proveremo il primo kit. A quel punto ci bilancieremo. Esatto. C'è un caldo africano. Sì, adesso africano a luglio è un azzardo, però ci si è già fatto, ci si ritornerà. Però a luglio, a luglio dovrebbero essere. Ci sono condizioni estreme che... Sì, sì, esatto. E quindi noi già ci prenotiamo perché ci dobbiamo essere, ci dobbiamo essere. Qui siete i primi dall'istante, perché siete i primi a entrare qua dentro e a sposare questo progetto. Certo. Come dicevo prima, Ido... Praticamente i primi a venirci in conto, cioè c'è un altro ascolto. C'è un caldo, c'è un caldo, c'è un caldo, c'è un caldo. Il caldo ci servirà per verificare quelle sicurezze che abbiamo messo nel software. Per vedere le criticità che eventualmente si parlano di esatto. Abbiamo dei controlli di temperatura che agiscono sulla mappatura del motore. E qualcosa di meglio che provarlo in luglio. Sì, sì, sì. Benissimo. E come avrete capito, il mio compito è anche quello di placare l'entusiasmo. Questi due protagonisti. Sicuramente dal punto di vista dell'affreddabilità e della guidabilità, a parte la ciclistica che, bene o male, è più facile. E quel lavoro che vi abbiamo fatto vedere sulla centrale del motore, riteniamo che sia molto importante. Certo. Quello poi è il cuore, come si diceva prima, l'anima della motoressing. Ormai non si viaggia solo sulla meccanica, ma soprattutto sull'elettronica. Quindi è molto importante avere ben centrato questa tipologia, questo settore. Quindi, che direi, noi vi ringraziamo per averci accolti e per averci dato queste bellissime spiegazioni, averci fatto vedere tutta la linea produttiva e le idee che verranno poi messe in atto su questa bellissima moto. e vorrei mettere l'accento su questa azienda, l'Engines Engineering, scuso, perché è una di quelle, come dire, eccellenze che abbiamo nel nostro paese, che spesso magari non sono così conosciute, a parte dagli appassionati o dagli addetti al lavoro. e quindi ci siamo trovati di fronte a una realtà che veramente rende orgogliosi di essere italiani, di appartenere, di avere, diciamo, delle eccellenze di questo tipo. Quindi ringrazio il dottor Strazzari, ringraziamo il dottor Maino e il signor Caprioni, il super pilota, il signor Caprioni, che spero, anzi, mi auguro che presto lo vedremo in sella, perché a luglio siamo insieme, e a dargli un po' di gas, a vedere che questo progetto, diciamo, a toccarlo con mano. Grazie ancora, un saluto da Edo, da Discovery in Dual, e ci vediamo presto per gli sviluppi. Grazie a tutti per la visita e magari prima di salire in sella vi faremo fare un altro giro. Molto volentieri, molto volentieri. Ok, grazie. Grazie.